Cari amici, bentornati a Zona Franca. Oggi parleremo di Beppe Grillo. Ha segnato una svolta nella politica italiana, ma non è stata capace di gestirla. Perché ha segnato una svolta? Perché per primo è stato quello ad introdurre la democrazia diretta. Ci si candidava sul blog, le persone votavano e chi prendeva più voti veniva candidato. Un passaggio ancora più forte democratico di quello del PD, cioè del passaggio delle primarie, la democrazia diretta. Però poi questa democrazia grietta dopo il primo giro di Walser si interromta. Perché? Perché hanno cominciato a nominare i saggi per ogni regione e hanno detto adesso i saggi decidono chi si candida e chi non si candida e quindi praticamente tutti coloro che non erano d'accordo o che magari si sono mostrati contrari alla politica messa in atto dagli eletti della prima ondata sono stati fatti fuori e non sono stati candidati. Quindi da democrazia diretta si è andati a finire a dittatura diretta. E Grillo ha da un lato, come dicevo, un grande grande merito, ma dall'altro ha anche un grande demerito. Perché lui doveva essere il garante, doveva essere colui che controllava e doveva essere colui che praticamente faceva sì che le regole del Movimento 5 Stelle venissero rispettate fino in fondo, compreso questo dalla democrazia diretta e della candidatura sul blog. Aperta a tutti, a tutti e a chi prendeva più voti poi si aprivano le strade per la candidatura alla Camera, in Parlamento, alla Regione. Invece così non è stato fatto e ci sono stati coloro che sono stati eletti al primo giro che si sono garantiti anche il secondo mandato su una poltrona che di certo fa comodo a tutti. E di questo Grillo ha una grandissima colpa ed infatti è da lì che è partita la distruzione di questa idea innovativa, veramente forte di democrazia che era, ribadisco, era il Movimento 5 Stelle. Ciao a tutti amici.